bentornate sul mio canale oggi vi propongo questo progettino molto semplice alla portata di tutte è una magliettina a tre quarti la costruzione sono due pannelli a t cuciti poi sulle spalle sotto il braccio sul fianco per entrambi i lati e il gioco è fatto è un progetto realizzato con un filato molto particolare non so se si vede la particolarità delle sfumature ma più che sfumature sono schizzi di colore è un filato che si chiama data è il nuovissimo della dell'adria fil e questo filato è particolare perché perché diciamo la fibra che c'è all'interno è una fibra estratta dal faggio quindi è una seta diciamo non naturale ma comunque è una fibra molto pregiata e addosso ha un effetto come se uno portasse una non so con una magliettina un qualcosa di seta proprio ed è bellissimo sono gomitoli da 50 grammi anche sia un metraggio non molto alto però un'ottima resa a me è piaciuto tantissimo e anche lavorato è molto molto bello e piacevole quindi spero che questo progettino vi piace poi metto anche le foto in descrizione nel canale sia nei miei vari social ho fatto due disegni diversi sul davanti e sul dietro ho fatto questi fiorellini poi sul braccio invece ho fatto un punto traforato e una volta terminato e cuscito ho fatto sul per renderla una manica tre quarti quattro giri appunto rete in tondo con dei semplici ventaglietti per rifinire e sul collo ho fatto semplicemente un punto gambero ma se voi volete potete anche fare soltanto due giri di punto basso quindi spero che mi piace questo progettino e che vogliate realizzarlo per la mia taglia che è sempre una 46 barra 48 utilizzato 450 grammi di questo filato e non sono tantissimi perché comunque il metraggio è molto è molto basso però un altissima resa quindi che cosa dirvi ragazzi e vi lascio al tutorial e noi ci vediamo in un progettino successivo eccoci qui con un nuovo progettino oggi voglio proporvi questo progetto realizzato con il filato dadà volevo darvi tutte le misure sul progetto e il quantitativo di filato che io ho utilizzato allora il mio progetto si sviluppa su due pannelli a t come costruzione quindi prendete la vostra circonferenza più grande dividerete per due la mia circonferenza più grande sono i fianchi e automaticamente ogni pannello per me misura dai 50 cioè misura 52 centimetri ma io metto sempre un paio di centimetri in più per la comodità quindi ho fatto un pannello di 54 centimetri sono andata a lavorare ho lavorato in altezza per fino a 36 centimetri per ogni pannello dopodiché ho avviato le catenelle volanti e che cosa ho fatto sono andata avanti per il mio scalfo quindi 20 centimetri e ho tagliato il filo lavorando in andate e ritorno per ambo i pannelli l'unica cosa che ho fatto siccome volevo un po diversificare il punto sui pannelli del davanti e del dietro ho fatto un punto fantasia che è un multiplo di 3 più 1 mentre per le maniche che sono maniche tre quarti ho fatto il punto rete ma voi potete tranquillamente riportare lo stesso punto del progetto basta mantenete il multiplo quindi ho avviato 75 catenelle più una che mi equivale a 54 centimetri per il pannello per le maniche ho avviato 30 catenelle più una volanti nel senso che arrivata alla mia altezza sono andata avanti ho fatto le 30 catenelle più uno e ho tagliato il filo sono ripartito dall'altra parte facendo 30 catenelle più una quindi 31 e mi sono riagganciata sulla prima del pannello e ho tagliato il filo e poi con un nuovo filo sono ripartita dalla catenella e ho lavorato praticamente le maniche insieme al progetto sempre in andate in giri di andate e ritorno poi la misura dello scollo è di 30 centimetri io l'ho lasciato così però voi sapete che lo scollo può essere di 30 di 26 anche di 24 centimetri il quantitativo di filato ho utilizzato 450 grammi di filato data dell'adriafil per una taglia 46 barra 48 per ogni taglia in più io vi consiglio di acquistare un gomitolo in più e per ogni taglia meno un gomitolo in meno dipende poi se realizzate il progetto con questi punti altrimenti con lavorazioni diverse sicuramente dovrete prendere qualche gomitolo in più soprattutto perché rispetto ai ferri l'uncinetto mangia un pochino più di filato per la mia mano è andava bene il 6,5 per voi dovrete provare e vedere qual è il più adatto l'altezza totale della maglia è di 56 centimetri e la lunghezza totale della manica sono 28 centimetri io adesso vi lascio nella community il mio schemino intanto vi lascio al tutorial e spero che questo progettino vi piaccia buon lavoro e tornate sul mio canale oggi volevo spiegarvi un po il progettino che intendo realizzare con il filato nuovo dell'adriafil il dada è praticamente vorrei realizzare una magliettina con la manica tre quarti a pannello semplice e che tutte possono realizzare questo fantastico filato è praticamente un filato tutto al naturale nel senso che ci sono 68 per cento di modal che è un estratto del faggio quindi è una è molto pregiato come filato e 32 per cento poliammite sono 50 grammi per 85 metri e la casa ci consiglia l'uncinetto del 7 ma io lo sto lavorando con l'uncinetto del numero 6 adesso io vi faccio vedere il pezzo che ho già iniziato così voi potete capire come si vanno a come dire che che disegno danno le sfumature la mia tonalità è la tonalità ossia il colore è 45 dove c'è un po di viola un po di grigio un po di blu il bianco e il nero è bellissimo questo filato molto morbido si lavora molto molto bene ed è molto molto piacevole e io ho iniziato il mio progetto e mi sono resa conto che per la mia mano va bene il 6,5 e ogni gomitolino mi sviluppa 15 centimetri adesso ve lo faccio vedere il pezzo già avviato in modo che voi vi potete regolare quindi diciamo il progetto è due pannelli a t quindi voi dovete prendere la vostra circonferenza dividere per due e fare due pannelli identici poi andiamo a cucirli sotto alle suoi fianchi facciamo la cucitura sotto al braccio sulle spalle fino a diciamo la manica e lasciamo lo scollo il motivo è un multiplo di 3 più 1 io per me ho avviato 75 catenelle più una che mi sviluppano 53 centimetri praticamente la mia circonferenza allora questo è il pezzo che io ho già avviato calcolate che questo è soltanto un gomitolo ho appena iniziato il secondo vediamo se riesco a farvi vedere ecco qui vedete com'è il colore come non è una sfumatura sono schizzi di colore vedete oggi la luce non mi aiuta tantissimo però spero che voi riusciate a vedere tutti i colori come vanno a giocare quindi adesso vi faccio vedere il punto su un campioncino o comunque avvieremo le catenelle che a me servono e come ripeto sono quattro giri che non fanno sempre ripetuti e questo punto io l'ho utilizzato anche per la stola poi vi rimetterò se volete sotto al tutorial anche il link della stola appunto detto ciò iniziamo avviando io per me avvierò 75 catenelle più una e farò un giro di preparazione a punto basso quindi avviamo le catenelle voi avvierete le vostre catenelle e poi ci rivediamo allora io ho avviato per me le 75 catenelle ne aggiungo una e poi ripasso tutta la catenella a punto basso in questo modo quindi il giro di preparazione lo facciamo tutto a punto basso almeno per me se voi volete potete farlo o a mezza maglia o a maglia alta sceglierete voi quindi ripassate tutta la catenella a punto basso o quello che più vi piace allora ecco qui io ho ripassato tutta la catenella a maglia bassa adesso facciamo il primo giro facciamo due catenelle voltiamo il lavoro rientriamo e facciamo la maglia alta quindi quest'anno ci equivale sempre come maglia alta 2 catenelle saltiamo due punti di base nel terzo maglia alta 2 catenelle saltiamo due punti di base nel terzo maglia alta quindi adesso per tutto il giro dovete fare in questo modo 2 catenelle saltate due punti e nel terzo punto alto quindi andate avanti così e ci vediamo al termine del giro abbiamo terminato il giro ci alziamo con due catenelle voltiamo il lavoro rientriamo e lavoriamo la maglia alta 2 catenelle 2 catenelle adesso andiamo su questa e lavoriamo una maglia alta 2 catenelle rientriamo sempre nella stessa maglia e facciamo maglia alta chiusa a metà rientriamo maglia alta chiusa a metà tre asoline sull'uncinetto scusate tre asoline e chiudiamo tutto insieme possiamo fare in questo modo poi saltiamo questa andiamo su questa e facciamo maglia alta chiusa a metà maglia alta chiusa a metà e chiudiamo tutto insieme due catenelle rientriamo alla base e facciamo il punto alto quindi potete lavorare o in questo modo oppure come lavorerò io perché non vi potrò ammettere lo schema perché è di un giornale quindi l'ho dovuto leggermente modificare per farvi il tutorial e quindi ho lavorato in questo modo ho fatto il quadratino rientro e faccio maglia alta chiusa a metà carico il filo rientro maglia alta chiusa a metà tre asoline salto questa maglia alta vado in questa e faccio maglia alta chiusa a metà carico il filo rientro maglia alta chiusa a metà cinque asoline e vado a chiudere tutto insieme due catenelle e rientriamo maglia alta due catenelle maglia alta sulla maglia alta poi due catenelle carico il filo rientro alla base faccio maglia alta chiusa a metà carico rientro maglia alta chiusa a metà tre asoline salto questa maglia salto le catenelle vado in questa e faccio maglia alta chiusa a metà carico il filo maglia alta chiusa a metà cinque asoline e vado a chiudere tutto insieme tutte le asoline insieme due catenelle e maglia alta poi 2 catenelle vado e far salto le due catenelle e faccio la maglia alta poi 2 catenelle carico il filo maglia alta chiusa a metà carico il filo rientro maglia alta chiusa a metà salto tutto vado in questo maglia alta chiusa a metà carico il filo rientro maglia alta chiusa a metà cinque asoline e vado a chiudere tutto insieme due catenelle e rientro e faccio la maglia alta quindi voi dovete ripetere questo per tutto il giro e noi ci vediamo quindi a fine giro facciamo insieme l'ultimo modulo quindi due catenelle rientriamo maglia alta chiusa a metà carichiamo rientriamo maglia alta chiusa a metà saltiamo questa maglia alta andiamo in quella successiva maglia alta scusate non ho preso il filo quindi carico il filo entro maglia alta chiusa a metà carico il filo rientro maglia alta chiusa a metà 5 asoline chiudiamo tutto insieme due catenelle rientriamo maglia alta 2 catenelle e in questo caso al termine del giro invece di fare una maglia alta facciamo una maglia alta chiusa a metà una seconda maglia alta chiusa a metà che ci equivale come maglia alta e ci resta più regolare inizio e fine giro intanto volevo ricordarvi che per ogni taglia in più aggiungerete due moduli in più ossia due multipli quindi sei magli in più per ogni taglia in meno andrete a togliere sei maglie perché il multiplo è di tre adesso facciamo il terzo giro il terzo giro consiste in una catenella voltiamo il lavoro e facciamo la maglia bassa poi 2 catenelle andiamo sulla maglia alta e facciamo la maglia bassa 2 catenelle andiamo qui al centro e abbracciamo passiamo sotto e facciamo la maglia bassa 2 catenelle maglia bassa sulla maglia alta 2 catenelle e abbracciamo tutto facendo passiamo al centro e facciamo la maglia bassa quindi ripetiamo questo per tutto il giro siamo arrivati al termine 2 catenelle e maglia bassa sulla maglia alta adesso facciamo l'ultimo giro del motivo quindi 2 catenelle voltiamo rientriamo e facciamo la maglia alta poi 2 catenelle e maglia alta sulla maglia bassa a questo punto che cosa facciamo carichiamo il filo andiamo nella maglia bassa e facciamo maglia alta chiusa a metà seconda maglia alta chiusa a metà e chiudiamo le tre asoline poi facciamo 3 catenelle 2 e 3 rientriamo e facciamo 2 maglie alte chiuse a metà 3 asoline e chiudiamo e maglia alta sulla maglia bassa allora vi faccio una precisione una precisazione io qui volevo farvi vedere comunque come si lavora questo filato perché è un filato che si lavora stupendamente però mi rendo conto che forse il punto non si legge bene nel lavorarlo quindi io sotto al tutorial vi rimetto il link del tutorial della stola perché è lo stesso punto soltanto che nella stola era un punto realizzato con un filato diverso rispetto a questo che è un filato primaverile quindi io spero che si veda bene qui e sia chiara la spiegazione ma onde evitare vi rimetto il link della stola quindi detto ciò andiamo avanti 2 catenelle e maglia alta sulla maglia bassa carichiamo il filo entriamo nella maglia bassa e facciamo una maglia alta chiusa a metà una seconda maglia alta chiusa a metà e chiudiamo tutto insieme 3 catenelle carichiamo rientriamo sempre nella maglia bassa e facciamo maglia alta chiusa a metà seconda maglia alta chiusa a metà 3 asoline e chiudiamo tutto insieme e maglia alta sulla maglia bassa quindi se riuscite a vedere questo punto è il punto è un fiore con quattro petali quindi ripetete questo per tutto il giro siamo arrivati al termine del giro facciamo nell'ultima maglia maglia alta chiusa a metà rientriamo maglia alta chiusa a metà e chiudiamo tutto insieme e abbiamo in questo modo vedete è un pochino più regolare inizio e fine giro abbiamo terminato così il modulino dei quattro giri adesso praticamente si riparte dal giro dei quadretti quindi facciamo sempre due catenelle voltiamo e maglia quindi il modulo in questo modo è terminato facciamo quindi maglia alta 2 catenelle e maglia alta nel marchettino delle 3 catenelle 2 catenelle e maglia alta sulla maglia alta 2 catenelle maglia alta sulla maglia alta quindi stiamo ripartendo dal primo giro e poi al secondo giro si ricreano i due petali del fiore perché vedete molto molto bello questo motivo quindi 2 catenelle e maglia alta sulla maglia alta 2 catenelle maglia alta sulla maglia alta quindi siamo ripartite dal primo giro vi faccio rivedere un attimo il pezzo che ho portato un attimino avanti eccolo qui vedete qui si leggono abbastanza bene guarda è un incanto questo questo filato si lavora molto molto bene è molto scorrevole io ho utilizzato comunque per la mia mano l'uncinetto del numero 6,5 quindi spero che vi piaccia questo progettino che vogliate realizzarlo magari con i vostri colori preferiti e cosa dirvi vi auguro buon lavoro ci vediamo per un altro progettino